Le tre rose di Eva 4, anticipazioni Settima puntata, Aurora sceglie Fabio Le tre rose di Eva 4, anticipazioni Puntata 14 dicembre, Alessandro e Aurora lontani, Veronica con il cellulare di Ivan Nella settima puntata delle tre rose di Eva, Aurora e Alessandro saranno sempre più lontani Monforte sarà costretto a restare in carcere, con l'accusa di aver tentato di uccidere Fiamma Astori, moglie di suo fratello Edoardo Aurora non riuscirà a credere all'accuse cadute sul padre di sua figlia, sebbene tra loro ci saranno ancora diverse tensioni Infatti, Alessandro si mostrerà preoccupato per la vicinanza di Aurora a Fabio La Taviani deciderà di stare a fianco alla story Intanto, Tessa si avvicinerà sempre di più a suo padre Quest'ultimo sarà molto premuroso con la figlia Ma le sue intenzioni resteranno ancora molto negative Infatti, il colonnello, insieme a Tessa, metterà in guardia Marzia e Aurora I due vorranno aprire gli occhi delle due sorelle, mostrando loro tutte le falsità raccontate da Ruggero Camerana Marzia non si fiderà completamente delle parole del padre e così inizierà ad indagare sul passato di sua madre, proprio per comprendere chi era Nel frattempo, grande importanza avrà il personaggio di Veronica Quest'ultima sarà in possesso della vera prova della morte di Ivan Anticipazioni settima puntata, Veronica con il cellulare di Ivan, Marzia indaga sul passato Mentre le indagini porteranno Marzia in un albergo poco distante dalla vecchia diga di Villalba, Veronica inizierà ad essere un personaggio fondamentale per la fiction Infatti, la donna si troverà in possesso del cellulare di Ivan L'ex amante di Edoardo guarderà anche l'ultimo videomessaggio lasciato dalla story prima di morire Tutti saranno convinti del fatto che sia stato Alessandro a investire fiamme, proprio per ottenere il cellulare di Ivan Ma ecco che piano piano il mistero inizierà a risolversi Veronica inizierà a notare il forte interesse del colonnello nei confronti del telefono della storia e deciderà di incontrarlo.Le tre rose di Eva 4, Veronica minaccia fiamma Veronica non sarà solo in possesso del cellulare di Ivan, prova che potrebbe liberare finalmente Alessandro da ogni accusa, ma sarà anche molto gelosa La donna continuerà ad essere legata a Edoardo e non accetterà che quest'ultimo sia innamorato di fiamma Così, Veronica minaccerà la giovana story per allontanarla dal fratello di Alessandro